ognuno di noi ha il diritto di dire mi piace oppure non mi piace se andate a louvre guardate la gioconda voi potete dire non mi piace oppure mi piace moltissimo io ci sono andato e la gioconda non mi ha colpito non mi piace e potevo dire che non mi piace la gioconda potevo dirlo anche davanti a mille critici se non mi piace non mi piace io con la gioconda non ho nessun feeling non andrei a cena con la gioconda il quadro lo venderei immediatamente se l'avessi allora perché vi dico questo perché voi state cominciando a mandarvi i vostri filmati per averne così un'impressione ecco io vi darò una valutazione da professionista faccio questo mestiere da un po di anni e quindi vi dirò secondo me si poteva fare così o forse qui hai sbagliato e qui e non mi sembra corretto qui è proprio c'è un errore grave di comunicazione insomma di linguaggio che non avresti dovuto fare io questo farò però se il vostro filmato piacerà alla gente anche mettiamo che sia fatto malissimo non ha nessuna importanza questa assolutamente questo fatto non ha importanza e youtube lo dimostra dimostra proiettando mandando online dei filmati che sono fatti a volte molto male hanno ugualmente anche se sono fatti male hanno ugualmente grande successo questo fra l'altro per me è un'occasione per dirvi che io queste comunicazioni che faccio con voi sono veramente improvvisate voi non guardate la qualità dei video che io faccio perché in questo caso io non mi comporto da regista faccio lo youtuber come si dice nel senso che prendo la camera ve la metto lì di fronte e approfitto più o meno della luce che c'è a volte se non c'è luce giro lo stesso perché voglio rispettare il mio impegno a mandare online ogni settimana il martedì e il giovedì un filmato ma quello che a me preme in questi casi non è darvi un bel video ma è comunicarvi delle cose che mi sembrano importanti importanti per questo canale e importanti per la nostra comunicazione quindi non badate ai video sono proprio fatti così a volte c'è il rumore di fondo eccetera perché mi piazzo il microfono sul cuscino li faccio a casa li faccio in studio li faccio in giro dove mi trovo perché voglio rispettare il fatto che il martedì e il giovedì devo parlarvi allora dalla prossima settimana appunto cioè dal dal prossimo giovedì non dalla prossima settimana già giovedì prossimo parleremo del primo filmato che voi mi avete mandato va bene ci vediamo giovedì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Grazie a tutti